Buongiorno, prossimo prego. Buongiorno signore, si ricorda di me? Io sono la psicologa Carla, mi dica pure, che cosa l'affligge oggi? Perché è qua? Ehi, ehi, si sono separati. Tesoro, sono separati da 30 anni, io non lo so, ancora mi viene a cagare il cazzo. Dica di più, continui. Eh, ho dei problemi. Si, vede. Ma sta disegnando. Ti devi fare i cazzi tuoi. Ho dei problemi con l'alcol. Guarda tesoro, prossima volta che bevi, invita. Oh, ma non pianga, vuole un fazzoletto. Sì, grazie. No, no, aspetta, è l'ultimo, serve a me che c'è un pedore. Eh, parlami di te, dei tuoi genitori. Eh, sono separati. La canzone però non fa così. Dimmi pure. Mi sento perso in questo periodo. Guarda, vuoi Google Maps? Te lo do. Cosa sta scrivendo? Ti devi fare i cazzi tuoi. Cosa è che mi stava dicendo? Una cosa molto interessante. Eh, ho perso anche la retta via. Guardi, qua davanti, qua davanti c'è un cartolaio. Qua, lì, il ridello lo trova. Vedi che la retta via la trova. Sono 7900 euro. Ora, caro, la seduta finisce qui. Puoi pagare tranquillamente in cassa di lì. Alla prossima. Mi raccomando, per qualsiasi cosa, si ricordi di non chiamarmi. Per qualsiasi cosa, si ricordi di non chiamarmi.